Sono scesi in strada con i loro genitori chiedendo di poter proseguire la scuola dove l'hanno iniziata. Sono i piccoli studenti che abitano a Lido Azzurro. La maggior parte di loro frequenta le scuole di Massafra, stessa distanza da Taranto, ma la località balneare ricade nella competenza del capologo ionico. Da quest'anno è stato sospeso il servizio di trasporto pubblico scolastico messo a disposizione dal comune di Massafra, garantito, ci dicono, da oltre 30 anni. Sospeso dall'amministrazione massafrese perché non ha competenza territoriale. Dall'altra parte, l'amministrazione comunale di Taranto garantisce lo scuolabus fino al rione Tamburi dove ci sono servizi e strutture in grado di garantire la scuola ai piccoli residenti a Lido Azzurro. Ma intanto ci sono molti bambini che hanno già avviato il loro percorso di studi a Massafra e trasferirsi improvvisamente a Taranto comporterebbe il disagio del distacco dagli insegnanti e dai compagni di classe con i quali hanno stretto rapporti sociali. Da qui l'appello affinché si riesca a trovare un punto d'incontro tra le due amministrazioni di Taranto e Massafra il cui operato è bene evidenziarlo e comunque nel rispetto delle norme. Una delegazione di dirigenti scolastici e genitori si è recata presso il comune di Massafra. C'è massima disponibilità da parte dell'amministrazione comunale massafrese. Adesso l'appello è a entrambe le amministrazioni per trovare un punto d'incontro. L'appello adesso è questo, cercare realmente una soluzione perché la scuola è iniziata, qualcuno ha iniziato oggi, qualcuno ha iniziato a mercoledì, presumo che cambiare 30 bambini da un plesso all'altro, anzi proprio da un paese all'altro diventa realmente complicato. Adesso subentra un problema fra i due comuni e quindi volevamo arrivare a capire qual è il problema perché come tutte le cose istituzionali ci mandano da un comune all'altro.